amici prani tv salve benvenuti a questo nuovo appuntamento noi siamo a prato in piazza mercatale una delle piazze più importanti di prato perché siamo qua perché ci sono tantissimi locali allora andremo a girare come sempre il nostro programma che comodamente la casa vostra nel vostro letto nel vostro divano potete guardare questo programma che siamo prani tv che è una trasmissione dove vi porta i locali a casa stando comodamente a casa e noi andiamo noi per voi a farveli vedere allora noi siamo in piazza mercatale a prato ci sono un sacco di locali noi abbiamo scelto due o tre dove c'è abbiamo scelto un pub poi abbiamo visto che c'è anche un ristorante nuovo siamo a chicco d'uva e poi c'è un altro ristorante l'antiche volte noi andiamo a cercarli a vedere cosa succede poi ho sentito che c'è anche della musica bene plane tv con voi marco vigiane la voce la una toccafondi regia rosario invece questa volta alla telecamera come sarà mai senza resta se con vostro fisso chiudeci nell'ombra di un comodo nascondino non mi chiedere mai per te proteggimi dall'alba di un futuro che non conosco l'amore è tutto quello che ci è l'amore è scarpe e vecchie non vuoi mutare l'amore è così stupido ma fanno poi capire l'amore è solo parte dell'altro anche quando sarà chiaro che non c'è più niente tu credimi 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 sempre anche quando abbiamo troppe cose da cambiare tu credimi 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 sempre c'è la musica dal vivo vedo che c'è un pianista che conosco molto bene anzi un cantante e anche dj che conosco molto bene e si chiama chicco duva è anche nuovo nuovo perciò vediamo questo chicco duva perciò vediamo questo guardate che abbiamo trovato qua il chicco duva un carissimo amico si chiama massimo ciao massimo ciao buonasera chicco duva è veramente bello è nuovo nuovo nuovissimo ancora da scritturare ancora da scritturare però vedo che c'è un'idea straordinaria perché ho visto il menù ma siete sicuri sul vino però ho visto forse c'è uno sbaglio scusami eh c'è uno sbaglio perché è menù bistecca antipasto toscano bistecca un chilo patatine fritte spinaci una bottiglia di vino 50 euro per due che ti fa 100 o 50? 25 a 25 no? ah un chilo di bistecca una coppia con la tua ragazza si paga i 50 euro è poco è poco per far conoscere il posto ah è una promozione perché mi sembra che c'è chi investe in pubblicità in altre forme e te fai questo investimento può assaggiare anche il prodotto questo è un eno ristorante vino vino tanto pesce crudo è una cucina molto particolare da assaggiare allora cucina particolare da assaggiare è una ricerca sui vini anche no? si si una bella scelta di vini di qualità noi abbiamo l'Italia che è una riproduzione nazionale con i vini no? poi la Toscana che produce tanti vini e noi li metteremo tutti i migliori i migliori sono qua bene complimenti c'è anche la musica del vivo oggi perché il giovedì e il venerdì fate sempre qualcosa i giovedì la facciamo musica solo per oggi che era venerdì e ci serviva fare una bella serata una serata con la musica del vivo però i giovedì fai anche la musica del vivo i giovedì facciamo musica del vivo una per il vivo? ok non manca niente allora passare insieme soldati e scorse moltiplicare la nostra voce allora presentati ciao sono Francesco 40 anni un pochino Francesco 40 anni di capo di cognome? Francesco 40 anni di cognome sono Francesco Pucci faccio questo lavoro da tanto tempo lo sappiamo e Francesco senti allora che suoni i locali importanti nella zona qui siamo a Prato qui siamo a Prato è la prima volta che sono a Prato ora la scenografia non è molto bella perché qui c'è un'impalcatura provvisoria in questo locale però ti hanno messo proprio qui è bellissimo invece è moderno sei in costruzione è moderno è moderno è una cosa moderna facile cantare dove tutto è pronto è bellino questo chicotù allora che cosa? bellissimo posto bellissimo in piazza Mercatale a Prato spero di tornarci poi vedremo e te si muovi in vari locali no? sì in diversi locali zona Firenze Prato spero di tornare anche a Prato Francesco Pucci qua ci stanno ripetendo anche quel telefonino Italia 1 come sono di nuca come sono? che Italia 1 lo usiamo è Planet TV no no ma Italia 1 è la musica anche lui Planet TV top eh numeri uno questo è il ristorante l'antiche volte entriamo vediamo a Prato in piazza Mercatale si mangia pesce si mangia carne ci abbiamo anche la bistecca e la pizza la pizza buona venite qua all'antiche volte che c'è la chef che cerca marito no non lo so non lo so non lo so nel nostro tour di piazza Mercatale a Prato siamo anche a un pub questo pub lo visiteremo velocemente proprio si chiama Wallace Pub vediamo cosa succede il Miss Grand Prix una volta però ci ho partecipato si vede che sei molto bella come ti chiamiamo? Maddalena e tu sei qui all'accoglienza del pub no? del pub Wallace e che succede in questo pub? e che succede? di tutto? si mangia si 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 abbiamo hamburger cucina bavarese e la pizza Mio la mia lì adesso ti 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 Grazie a tutti.